Stivali ai piedi e palle in mano hanno svuotato a scantinati abitazioni e sono intervenuti per frane ed alberi caduti. Ci sono anche loro tra gli angeli del fango, i volontari aretini della racchetta. Subito dopo l'alluvione, il grande meccanismo della solidarietà si è messo in moto. Dallo scorso venerdì, tutte e 31, le sezioni regionali dell'Associazione di Volontariato hanno messo a disposizione mezzi, drovore e attrezzature di vario genere e personale. In tutto, oltre 50 squadre con circa 200 operatori specializzati sono arrivati negli ultimi giorni nelle zone alluvionate, da Ponte d'Era, Prato, sino a Campi e Bisenzio. Altre 20 squadre invece sono già pronte a partire, la destinazione sarà decisa in base alle necessità. Circa 15 volontari aretini che in questi giorni si sono avvicendati nelle zone interessate dall'alluvione. A distanza di giorni ancora molti il lavoro da fare, scantinati da svuotare, poi la rimozione di tutto quanto andato distrutto, ricordi di famiglia e vita quotidiana in un attimo spazzati per sempre. Una nota positiva però, intanto buio c'è. I giovani impegnati nel dare aiuto, commenta Flavio Sisi, responsabile della sezione aretina della racchetta. Ragazzi che spontaneamente si avvicinano, zaino in spalla e palla in mano, iniziano a lavorare. Gli angeli del fango, chiosa, una storia vera che si ripete, seppur triste, una storia d'amore.